La ragazza più OP di Minecraft, età 2022 edizione speciale No Andorra non di spogliare così, oddio Questo è l'icone più forte che esista E bella ragazzi sono Bimeth e bentornati in questo nuovo video dell'OP Pryson E sono insieme a due persone bellissime Da un lato c'è Sliderone che forse vi ricordate per il grandissimo video girato sull'altro server Vi ricordate? E poi assieme a noi la grandissima e nuovissima ospite del canale Ovvero Andorra Gamer Ciao Lei, proprio lei, è la ragazza più OP dell'OP Prysons E quindi tu Sliderone fai schifo va, te ne metti di qua proprio nasconditi Ecco in com'ronto non serve niente Vai Andorra vieni con me, andiamo via, lasciamolo qua Poverino Rip Sliderone Ma cosa fa Sliderone? Si è spogliato Che cosa? Vabbè, vabbè Ma ti sei tatuato una faccia? Sì, 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 è stato un nuovo tatuaggio 2022 Fattelo dire Una scelta un po' azzardata, lei cosa ne pensa signora Andorra? Un po' troppo spoglio Così va meglio Meglio, mettiti le mutandine Che poi mi convondo, non so se dove devo guardarti Se qui o qui Allora ragazzi, in che server siamo? Siamo su TheLegendCraft, come potete leggere da lì sopra E perché siamo in questo server? Perché secondo me ragazzi, questo server è sottovalutato Perché io giocavo in questo server tipo nel 2014-2013 Cioè voi vi ricordate di TheLegendCraft, vero? È bellissima di giocare nel 2016 E poi c'è una cosa bellissima su questo server, vero? Io che vi do il benvenuto, lì Cioè che non è vero Cioè praticamente se Slater non ne guarda Vede che c'è lui E poi c'è un tipo che tiene due noccioline lì sopra No, ok, non siamo qui per questo Ma siamo qui perché vi voglio far vedere come questo server ha delle funzioni bellissime Tra cui i regali di Natale Guardate cosa ho in mano Ti piace Andorra? Te ne volevo dare uno Però non posso dartelo Venite al mio plot Cosa? Venite al mio P? Cos'hai detto? Venite al mio, venite al mio plot Allora cosa facciamo? Come prima cosa Io voglio provare ad aprire questi regali Che come ho ottenuto questi regali? Ho scavato un pochino ecco E ho ottenuto questi due regalini Perché praticamente che succede? Se scavate nelle fasce orarie Che vi lascio qui sotto in descrizione Avrete la possibilità di ottenere questi regali Bellissimi Che vediamo cos'è che ci danno Allora scartiamone uno C'è stop in Capricolo In quei lucky crates Che quindi sono tipo queste Bellissime Apriamo le ceste raga Vi rendete conto? Apriamo delle ceste bellissime E troviamo i regali E poi cosa ho ottenuto? 40 dubs Oddio Questa è bellissima raga Vi spiego Vi faccio vedere Se facciamo slash dubs Credo funzioni così Esatto Noi abbiamo questi dubs Che io ne ho 40 Che mi permettono di Vediamo Dubs shop Scambiarli per robe Che io già ho fatto ieri Vi faccio vedere nel mio lotto Allora facciamo warp lotto Come vedete già ieri nel mio lotto Bellissimo Ho piantato un po' di erba Un po' di cose Non guardare Che sono legali Ho piantato queste cose Queste piantine Che credo mi diano tanti soldini Tipo in un giorno dovrebbero darmi 150k Che sono tanti soldi Vabbè è considera che siamo al livello 1 Ah ok allora vabbè vabbè E pure comune E pure comune Io direi facciamo un'altra cosa Subito andiamo a spacchettare Queste lucky crates Ne diamo 3 Adora Gamer E 1 A Slederone Allora qual è la gesta Che dobbiamo aprire Oddio Bellissima Quella super OP Sì Vai dimmi che cosa ottieni Slederone Un bilione Eh mannaggia Vai Adora Vedete Un bilione Un altro Ancora un bilione Eh questi bilioni E ora un bilione e 25 Eh ma Che differenzona guarda Vediamo io Un bilione Ah quindi praticamente ragazzi Trovate solo bilioni Vai sì allora Arranchiamo un pochino Perché in teoria abbiamo i soldi Facciamo slash one cup Ok quindi ci rank Allora se andate slash warp Praticamente vedete i warp Che avete sbloccato E se arrivate tipo al warp free Ottenete tipo un warp Che è un labirinto Che se lo completate Vi porta tipo Eh gratuitamente Senza che dovete spendere niente Al warp escape Allora io vi devo dire Una cosa Ho in serbo Un regalo E una sorpresa per voi Che adesso Veluberoo Allora ditemi come Non posso dartelo No cos'era Eh il kit furfante E C'ha Il kit base Protection 6 Unbreaking 10 E Epicone C'ha Eficiency 12 Fortuna 1 Unbreaking 12 E madonna Vai vai Prendi Ne ho 5 Ah Cosa Come ne 5 Madonna La fortuna La fortuna No andora Non ti spogliare così Oddio No Non guardare Sliderone Non guardare Si stava cambiando Andora Dai ammettilo che l'hai guardata Schifoso Fai schifo Non fare più queste cose Davanti a Sliderone Che lui è mani Va bene Scusate Scusate Sliderone Mettiti i pantaloni Sliderone Cosa volevi fare Porco Dagli uno schiaffo Andora Dagli uno schiaffo Te lo concedo Eh Vai No Vabbè E quello gli esce la spada In tutti i sensi Dai Non ce la faccio Allora Dite Bilworth Massimo Che avete Ragazzi Andiamo Che vi faccio vedere Una cosa bellissima Al Q Q Vai Andiamo tutti al Q Vai allora Vi devo dare Una cosa bellissima Allora Io ho dei Pirconi Allora Io ho due Picconi Bellissimi Con questo ho già scavato Tipo 25.000 blocchi Io ho due picconi Che sono bellissimi Che sono tipo La Lucky Miner Questi picconi Ti consentono Sì di ottenere Le chiavi Come prima Ma anche i regali Di Babbo Natale Siccome ne ho due Uno ve lo potrei regalare Siccome io non posso scegliere Non voglio scegliere Facciamo una cosa Voi mettete qui Rip Sliderone No Hai usato i trucchi di magia Non vale Allora Io adesso ne butterò Uno qui Il primo che arriva E lo prende Sliderone Mettiti i pantaloni Però Tu hai questi Proprio questi Attacchi di Di nudità Non vanno bene E poi perché Con gli occhi Stai guardando Andora Me lo spieghi È un buon maniaco Ragazzi Non Non fateci caso Allora Io adesso Butterò il piccone La prima persona Che riuscirà a prenderlo Vincerà questo super piccone Bellissimo Ok Vai Va bene Vai Voglio che fate un salto Però prima Fate un salto Per come se avete capito Ok Bravi Adesso uno shift Adesso un salto Adesso roteate Adesso roteate Shiftando Che bello Ragazzi Sto facendo Una recita Scolastica Al mio 3 Lo butto E voi lo prendete 3 2 1 Via Eh No Non riesco Non posso Givarlo Ma come devo fare Dovremmo tornare Al tuo plot Mi sa Di slash plot H Allora pronti Al mio 3 Lo give 1 2 3 Via No 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 Sliderone Sliderone Vedi che Andora Venga un attimo Venga un attimo Non so fino a che punto puoi fidarti Andora Pau Sì li ho li ho li ho li ho Pure con la cintura Quindi sarà difficile Togliermi Sì vabbè Però non gli darò un bacio Cioè sei così vicino Dai oh ma dai Questo video Questo video di età dei minori Ma no dai Tieni No 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 Ce l'ho già Ce l'ho già Ce l'ho già Ce l'ho già Dai tranquilli Oh che gran duomo Un applauso signori Per Sliderone Complimenti Sliderone In fondo Sliderone È sempre Super buono Torniamo un attimo in miniera Voglio vedere se otteniamo Qualche chiave bellina Così apriamo qualche altro chest E vediamo che ci esce Vada si tuffi Vai vai si scava Si scava Ma dopo quanto forte è questo piccone Sì è bellissimo Guarda Pa 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 Come scava Oh distruggiamola tutta sta miniera Ma dopo però voglio provarlo eh Ma non avevi detto che lo avevi Non era con questi e chat Ma dopo sarebbe super op Su potenziare ancora di più questo piccone Si può fare vero? Eh super op Quanti token mi servono per il potenziarlo? Eh mi so 2000 o 3000 Servono 2000 token? Si No rip Che si trovano nelle lucky block Quanti token sono? Già sono a 1000 Guarda Oh attendi c'è un ladro Attendo Sliderone È solo ti ruba le mutande Sì 4 Oh Babbo Natale mi ha regalato 75 token È grande Babbo Natale Poi anche un altro modo Per diventare super op È quello che se state nel TS di The Legendcraft Avrete la possibilità di ottenere dei regali Dopo proviamo se vuoi Yes tutti su TS con Andorra Gamer Chiamarmi Andorra Gamer ti prego Come ti devo chiamare? Lo so che è un nickname che ce l'ho da due anni Però non posso cambiarlo Eh dimmi tu come ti chiamiamo? Andorra Andorra vai Comunque Che vuoi? Scusa No Vai via No Fatti il tambone green pass Non mi seguire Un metro di distanza Fermo Fermo Ok ok Vabbè Che vuoi? Volevo dire che comunque Questo server Rispetto agli altri È molto buono Perché È molto buono L'ha mangiato lui Sull'altro server Ma ho registrato l'altra volta Non si poteva givvare Però io ti ho givvato lo stesso Bravo Qua si può givvare Boostare Ed è libero Quindi la gente può Crascere Eh non ho tanti soldi In confronto a te Vabbè ma tanto Non ti givvo mica io Quindi attaccati Eh lo so Mi stanno killando Warpix mi stanno killando Dove sei? Warpix fate warpix Arriviamo 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 No non è permesso Prendere quel warp Aiuto Oh sto Oh il piccone Il piccone No 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 Ma aspetta No runk up Slash runk up Aspetta che adesso arrivo Ok ci sono Ok sei rancato Sei rancato Arrivo Dove sei? Tutto sotto Tutto sotto Tutto sotto Ma io sono con la god Ma la devo levare forse Ti vengo a levare Forse qua mi sa killando Aiuto Tutto sotto Arrivo Dove sei? Tutto sotto Vai Ci sono Ci sono Vai guarda adesso come scappa Il signor Pino Vai vai Vendicati Oh ci sono anche altri No no Fra dio Mi sa Abbiamo fatto una gran gazzata No Ricordi del Vietnam Mi ricorda qualcosa Questa situazione No mettimila Aiuto Vai vai Mettila 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 Fai se lasci god Sì No 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 Aspetta Dobbiamo uscire al combattimento Se no non possiamo metterla Eh come faccio? Eh devi aspettare 20 secondi Ti ricordi come quella volta In cui siamo rimasti In combattimento Ma sono tutti qua Ti aiuto Amico Andora aiutaci Tu che puoi Non posso Ok ok Questo no Con questo sono amico No ok Non uccidiamoci con loro Loro sono amici Oh mi sto chilando Mi sto chilando Oh schifoso Dì di non chillarmi Sliderone amico Sliderone amico SOS Ok Pino Tortini Questo è il piccone Più Forte Che esista Cosa Hai preso il piccone Più forte del mondo Dello P Dello P Sono morto Sono morto Ma sti cazzi E' il più forte Dell'universo Mettila aiutami In che warp sei Andora W1 Dunque rip in chat Per Sliderone Che ha perso tutto Accetta il trade Per fartela vedere Ok Dov'è Accetta Scusa No tranquilla Aspetta Anzi metti in god adesso Guarda Oh madonna Esatto Ma già Quanti blocchi 158.000 blocchi In quanto In pochissimo Ma Oddio Fa vedere Vai usalo Non è così tanto potente Come Lucky Miner Però E' potente Guardatela Bellissimo Me lo fai provare Please Lo vuoi? Vai vai Fammelo provare Adesso te lo ridò Bellissimo Ma è proprio tuo Infatti E' il mio E' con il mio nome Oh madonna Ma questo è unico Infatti Sono Non sono La ragazza più OP A voglia Ovvio Hashtag AndoraGamer E' la ragazza più OP Di Minecraftita Ma è bellissimo Ma sono un treno Con questo piccone Lo sapete cosa sarebbe bello Se tipo Organizzassimo Un give Per questo piccone Questo video arriva A 200 likes Se questo video arriva A 200 like Organizziamo un give Per questo piccone Sei d'accordo Andora? D'accordissimo Oh guardate che bravo Andora Come fareste senza di lei? Oh ma sto volando Non so Anche la fai Ah ma è il piccone Oddio Mi fa pure volare Eh come Ma perché Guardalo Oddio Eh sei rivestito È fatto bene Io ti denuncio Vai levatevi l'armor Anzi no Sliderone tu no Credo questo video vi sia piaciuto Ci siamo divertiti Insomma a provare Questo server Se volete giocare Assieme a me Andora E Slider Arriviamo a 200 like E organizziamo un video Assieme a voi Dove regaliamo Questo piccone Bellissimo Di Andora Faccio vedere Dai l'ultimo Questo piccone Fantastico Quindi lasciate un mi piace E condividete il video Con tutti i vostri amici Noi ci vediamo In un prossimo Video Che schifo Hashtag Nei commenti Sliderone Vestiti Fai schifo E ciao a tutti Anche da parte di Andorogamer Ciao Ciao